ciao amici di youtube bentornati in un nuovo video a tema on kai star rail nuova patch nuovi personaggi da pullare una combo molto interessante perché abbiamo nella prima parte non solo face out che oggi stiamo a pullare ma anche un quattro stelle nuovo che è mose e meno male mi hanno messo in recap con lei che volevo sicuramente prendere arriverà poi l'insha che sicuramente non prenderò perché c'è da tenere per ciò che arriverà dopo il 50 e 50 ovviamente dalle scorse pull sul volpone ci hanno lasciato un po con l'amaro in bocca non vi dico come continuano queste pull vedrete poi le pull dei ragazzi più tardi sappiate siamo molto stanchi dopo questa live io sono l'ultima di oggi e niente vi auguro buona visione passate a seguirmi sul sito viola se volete vedere in diretta le pull e godervi anche tutti i retroscena perché qua su youtube ci sono soltanto gli highlights e i momenti più belli in realtà si vanno in live detto questo buone pull anche a voi se non avete ancora pullato sepuderete nella seconda parte del banner e niente ci vediamo in live sono qua in altri video poi quindi siamo a pt8 andiamo a 9 prima singola per quanto riguarda le altre signorine non mi interessa niente ho kafka che ho preso nel primo banner di kafka ho robin con la light cone quindi robin no e ho black suon quindi non mi interessano le light cone di quelle che mi mancano cioè rimarranno così hanno comunque delle armi loro che sulle quali l'utilizzo ci sto bene e 10 quindi l'unico obiettivo di oggi è face show basta felice di non avere accanto altre tentazioni perché non mi sembra proprio il caso tanto è questione di tempo per me torni aventurine lì saranno pianti ok bene ora che siamo a 10 si può andare di multi ve l'ho detto per collezionismo un mose poi se me ne dà di più bene però già uno andiamo a 20 prima multi ok si parte speriamo esca di mose e vabbè quelli che ho e 5 se mi dovesse uscire qualcuno tipo una tascia tipo shui tipo serval ma non perché le sto usando ma solo per il fatto che ecco miscia dovevo costellarlo questa è la e4 ti miscia bene sono per sicuramente personaggi che non ho finito di costellare quindi mi va comunque molto bene sì 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 ora non mi aspettavo lui onestamente però si tiene va benissimo 30 ok grazie ali grazie sì 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 quando sono personaggi appunto che non ho finito di costellare sono sempre contenta perché poi diventano cool tutti ora poi miscia diciamo che non lo sto usando va bene una cool perché comunque path e elemento in comune con jingliu che nel mio account è uno dei personaggi che ho bildato meglio quindi non ne sento necessità di usarlo e bildarlo però bene doppia pull non male buono multi da 8 40 buono Eccolo 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 Vabbè, speriamo Clara o Bronia 31 32 33 34 35 36 37 Oh Gesù Oh Gesù Meno male Meno male Dopo 87 hard piti su questo gioco Meno male Si va 70 Una multi prima del piti magari Magari Si può Si può Si 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 può Allora intanto se risparmiamo soldi Cosa molto importante Allora può essere qualsiasi perché siamo sotto il soft Ecco Subito No Let's go Vediamo vediamo Allora Magari appunto io l'ho detto ragazzi C'è lo 0,6 Ma questo 0,6 vuol dire nella prossima multi può anche avverarsi Quindi crediamoci Crediamoci Sei universi su mille hai appena trovato Sei universi su mille Ottimo dietro l'angolo Perfetto Dai Ma siamo noi uno di quei sei universi su mille Si Eccolo Si Si Gli universi Gli universi Si Avevo detto raga bisognava crederci Siamo noi Subito Subito Dai Vinciamo su 50 e 50 Si c'è Meno male Meno male Meno male C'è Oltre 84 Oltre 80 volevo dire 84 vabbè Ah Signor Era la denuncia Arlox di lì che c'hai la febbre Di lì che ti stai vomitando addosso Vedrai che ti lasciano a casa Si funziona Provalo 83 Ha fatto così anche il pezzo nel tenere di Eliana oggi Si veramente Io ho voluto per andare No guarda Elie Io non ci sono oggi Ah ok No sto a casa Allora 54 75 Dai ci siamo 76 Oh Siiii Vincita 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 Ma Guarda il cuore addio Brava bimba Bravo Vediamo vediamo Bravissima Vincita 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 Dai, il potere della bimba Bimba Oh, guarda il potere della bimba È già bimba Era garantita È vero Era l'ultima No No Si è Multi del 5 stelle Eccolo qua Eccolo qua, il nostro ticket arcobaleno Che sfreccia nello spazio Vediamo se nella prima singola Perché se sì, ha vinto il sì Se no, ha vinto il no Prima singola? Quindi siamo già a Pt9? No, ok 75, 76 77 78 Oh, 79 Dov'è? 80 81 La Robin Pt81 81 Va bene Ok Non credevo Non ci speravo Oddio Ok Quindi questo è 64 65 66 No Ragazzi Ragazzi No, non ci credo Ragazzi, non ci credo Non è reale Non è reale No, ragazzi Questo non è reale Non è reale Non è vero 67 68 69 70 70 71 72 72 Ah, no No È qualcosa Ora vediamo Ora vediamo Può essere qualsiasi 75 76 77 78 79 79 Oh, no Oh, no 78 Gesù Grazie Oh, mio Dio 78 Un parto Un parto Ragazzi Sono rimasto 5 pull Sto figliolo Porino 5 pull Con gli fatti Ogli star gritter Ma ancora è ben sue Eccola Mamma mia Alleluia Hai ragione Per 10 Alleluia proprio Hai ragione anche Alleluia Alleluia Due possibilità Su 14 Vediamo Allora 72 73 74 75 Vailu La light Ce l'abbiamo Forza 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 Volpona Forza Volpona Dai Ok 75 76 Questo ormai 77 78 Sì Sì Vinta Fai uso 5 stelle Lightcon Lightcon Dimeko Velt Clara Bronia E1 Vediamo Una di queste opzioni Lightcon Dimeko Velt Brona Clara E1 76 77 78 78 79 80 81 Sprony 1 Sprony 1 Lant ma che non sia un bimbo minchia ma una signorina Oddio Oddio Dai Go 40 5 stelle No via Dai ragazzi Sì No ragazzi Io stavo scherzando Io stavo scherzando Io stavo scherzando Ovvia Questa è la 31 32 33 Gesù Non ci credo No 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 33 Gesù Ed era il bambino Tanta ragazzi Dovrebbe esserci teoricamente Ok Perfetto Ce l'abbiamo Prendiamoci la Lightcon di FaceShower E poi decideremo adesso Iniziamo già un po' a dire Ma qual è la preferenza Tra tutte le signorine Che ci sono di là Cioè ce l'hai qualcuno Ti mancano tutti Ok Robin Va bene Mancano tutti Top Top Oioio Eccola The rest of the self Ora stiamo bene Messe 65 66 Credo 7 8 Oh Multi Si va PT 90 Mai visto PT 90 C'è 5 stelle Mi si sono fatta Già Ora nella prima singola 81 Harmony 82 Harmony Sì 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 Michele vince tutte E Valentino Rossi Nastrazzurro Ecco Nastrazzurro Ci siamo Ci siamo Vediamo Vediamo Se vince anche questo Oscar Io tozzuro No No Ok no Speriamo Sì sì Allora Quindi 41 42 43 No no Non ti tolgo Un sono pazzo Magliana 44 45 Valentino Rossi Oddio No 47 Oddio No va bene 5 50 50 Di fila Oscar 5 5 50 Di fila Oscar All in Infatti lo sta facendo Miau 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 Un attimo Mesh up Tiri Tiri Miau Miau Così Vabbè Ok Andiamo Sapete che mi stavo Fai emozionare Dicendo Oddio E Lì Però stavo Alpiti Ormai Non ha cavato Di niche Vabbè E qui Attivano Multi E pazzi Si è rotto Il cazzo Attivano Multi Adesso è questa La prima Ma di sicuro Di sicuro È questa Harmony Ci serve Guarda Ha vinto Che è questo Basta Basta Oscar Basta No Per forza Questa è matematica Non è Stiamo Stiamo Cercando Comunque Black Swan Stiamo 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 Adesso Adesso La prima Singola Pt 76 77 Ci serve Il simbolo Nihilty 78 Ecco Appunto Vabbè Nuova Oh Bye Una bambina Per Fabio Proprio Quello Che piace A lui Questa Mancava Quindi Va bene Non si è perso Quando si trova Quello Che si vuole Let's go Eccoci È garantita Quindi sappiamo Che cosa Ci aspettiamo Però Dai 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 No Uscirà Sotto L'80 6 Forse sì Forse no Forse bo Vediamo 8 Eccolo Eeeh 80 Ok Ragazzi C'è già C'è già C'è già Spammatele Face Show Spammatele Face Show Che non sappiamo Che cos'è Dobbiamo chiamarla Spammatele Spammatele Quindi 71 Poi sta Sì 72 73 74 75 Sì E si chiude 75 No vabbè Io non dico niente Io non dico niente Io non dico niente Non dico niente Non dico niente Mi stavo girando Me ne vado di nuovo Basta Ciao 60 60 Oh vediamo Fede Ok Forse è l'occasione Ti ovviamente Non ci fai a fare Un piti intero Nel momento Sbaglio Però su questo Non lo commenterò Ragazzi Ci si fa Vediamo se si riesce A arrivare a 60 Almeno Vediamo dove sei Allora 61 62 51 52 Ah scusa Mi hai ragione 53 54 Eccola Niente 60 Ancora Scritto Federica C'ho il 5 stelle Te ne sei accorta? No Stavo guardando la chat L'ho vista Dalla Dalla Condivision L'ho vista Dalla live Perché stavo Guardando la chat No No Ferma qua Ferma qua Ferma qua Elena puoi venire su Discord No Elena puoi venire su Discord Per favore No A quanto siamo? Non lo so nemmeno A quanto siamo? Cos'è questa? Eh L'abbiamo Ulti Era di quanto? Sì Era ma due Elena era a due Questa cos'è? La quarta singola? Siamo tipo a 5 6 di piti 6 di piti siamo Secondo me Ok 7 8 Vai Ecco Oh Siamo ulti Si parte Siamo a 10 Si va a 20 Dai 5 stelle No Martina Eccolo Sì Che ti devo dire Federica? Che ti devo dire? Io che ti devo dire? Dai su 11 12 13 Guarda Oh L'ha perso Federica Voglio fare la foto Con tutte le mie mogli Eccoci Finalmente Siamo due Quindi Foso Ecco la mamma Quindi foto con Betta Foso con Eliana E foto con Hammer Fine No No Anzi sai una cosa? Visto ci serve il fotografo Fede puoi farci la foto Grazie Oh Eccola Robin 5 stelle Ce l'abbiamo Vediamo un po' 75 76 77 77 Però Però Vai Musica 5 stelle Oh eccoci qua Questo è il ticket giusto Se non altro Il sollievo di sapere che il ticket è quello giusto 75 75 76 Ok 77 78 Eccola Oh Bellissima A Vi formula Which A B B A Grazie a tutti.